E di chi abbiamo parlato? Abbiamo cominciato a parlare dei non-barni, cioè di quelli che si occupano a treno ad alta velocità, da 31 anni, che subiscono delle particolari dimensioni culturali. Poi abbiamo parlato di alcuni gruppi e ONG che sono a Trieste, che aiutano quelli che vengono dalla rotta balcanica, l'importante linea d'ombra di Trieste, Lorena Fortasì, Gianandrea Franchi, che oggi dovevano essere collegati con noi in crea che non è stato possibile. E poi abbiamo parlato di Domenico Urcani. Abbiamo cercato di spiegare perché, a nostro avviso, nel suo caso si può parlare di persecuzioni. E abbiamo messo a confronto con tutti questi casi, abbiamo raccontato con dei film e abbiamo raccontato anche con l'esperienza e con la testimonianza. E lui, non stavolta c'era. Per fortuna, ha chiuso il festival con un lungo racconto sulla sua bendizione. Ecco, questo è un po' il nostro lavoro. Per questa sera, a conclusione di questo incontro, ci sarà un film che si chiama Il cielo sopra Riace e che è stato girato da un regista argentino che è collegato a Riace, perché è un riacese di esplosione, si chiama Damiano De Vito, un film che dura quasi 50 minuti e racconta la storia di Domenico e la storia dell'esperienza di Riace. E termina con la crisi di questo modello. Quindi vi annuncio quello che verrà dopo. Come abbiamo deciso di impostare questo tempo che ci siamo dati per discutere di Riace? Abbiamo pensato che potrebbe essere utile per far parlare alcuni dei protagonisti. Mimo, innanzitutto, sicuramente, che spiegherà agli amici che vengono da Bruxelles, che ringrazio anche io per la pazienza e la fortesia che hanno avuto di dire a Riace, spiegare come è andata la storia di Riace dal suo punto di vista. Ma ci saranno anche altri testimoni che hanno collaborato con la storia di Riace, che hanno dato un contributo scientifico professionale. Per questo vi vedremo uno alla volta. Adesso io lascerei subito la parola, se Mimo è d'accordo, all'Avvocato Andrea D'Arma, che ha il compito non facile di difendere Domenico, insieme con l'altro collega, Giuliano Misabia, nel processo d'appello, che è iniziato da pochi giorni e ha già degli appuntamenti scadenzati. Quindi, Mimo diceva che forse la cosa migliore è che lei ci racconti per aprire com'è la situazione, come si configura questo processo d'appello. Poi continueremo con il racconto di Mimo e quindi ascolteremo mai i contributi delle persone che hanno contribuito alla storia di Riace. Io faccio il passo in piedi e lascio la parola all'Avvocato D'Arma. Grazie a tutti. Per quanto riguarda il processo d'appello, voi sapete che c'è stata l'audienza, e la prossima sarà il giorno 6. Sapete bene che nell'audienza intercutiva del nostro ordinamento il corpo d'appello va alla relazione rispetto a quello che è in giudizio. Quindi i relatori illustrano i motivi dell'appello. C'è la sentenza che viene illustrati i motivi dell'appello. La questione, gli motivi dell'appello, che saranno di primo, saranno illustrati all'audienza del giorno 6. Chiaramente sul messo del giudizio io non mi posso assolutamente esporre più di tanto, dico soltanto che siamo viciosi, viciosi perché a noi interessa che i giudici in maniera serena si leggono le carte, applichino la legge e il risultato dovrebbe essere scontato. Perché l'innocenza, l'ho detto già in altre interviste, l'innocenza assoluta di Lucano e degli altri che è, al nostro modesto parere, documentalmente provata. Non serve uno sforzo ermeneutico per agganciarsi ad un orientamento giurisprudenziale o ad un altro per stabilire se il reato c'è o non c'è. Non bisogna fare questo sforzo. Bisogna soltanto applicare le semplicissime regole del nostro ordinamento, leggere i documenti e applicare la normativa vigente. Perché noi riteniamo che la sentenza di primo grado non sia una sentenza infondata. La sentenza è una sentenza berrante, una delle poche sentenze per chi segue il diritto italiano che innanzitutto ha quei contenuti delegatori rispetto alle diputate. Mi colgo agli europarlamentari, come si è fatto la ricerca dell'ordenamento italiano, poi difficilmente troverebbe una sentenza dove il tribunale si spinge a delegare il diputato il promotore. Puoi sapere benissimo che il tribunale è chiamato a decidere se c'è o non c'è o non c'è. E non è in certo che io ando a stabilire proprio dell'idolo e personale del soggetto. Benvenuto ai documenti, faccio solo un esempio che chiaramente non posso illustrare né le settecenti pagine della sentenza né le settecenti pagine del nostro ricorso. Vi do qualche indicazione affinché voi vi rendiate conto dell'ingiustizia che qui ha subito lo di anomalie. Allora, già nella fase delle indagini abbiamo notato una serie di anomalie perché c'è un ricorso in atto, io mi liquido e sto attento ad usare i termini che ritengo giusti proprio per evitare i fraintesi. Ho parlato sempre di anomalie e continuo a chiamare anomalie, ma chi conosce il diritto ha il dovere, ha l'obbligo previsto dalla legge nella fase delle indagini di raccogliere anche gli elementi che durante le indagini, va bene, emergono a favore dell'imperato. Ebbene, questo nei confronti di un banco non è stato fatto. Anzi, vi anticipo una cosa. È stata silenziata una intercettazione telefonica ambientale, cosa che vedete che gran parte della sentenza del primo grado è fondata sull'intercettazione. Ebbene, è stata silenziata, c'era stata utilizzata una intercettazione che, se fosse stata utilizzata, il Tribunale e la Procura stessa avrebbero avuto la prova documentale dell'insussistenza di metà il processo. E quella è entrata adesso, abbiamo chiesto adesso da Porto Pello di trascriverla. Abbiamo rotto noi una trascensione con parete di probabilità di non che chiudo proprio per fare un carico di riservere. Quella è una cosa di una gravità inaudita. L'altra cosa grave che riduce la perpetua sulla giustizia seguita da Lutano è data da una ipotesi di reato, fortunatamente di Lutano è stato assorto, che era una conclusione che era reato più grave. Ebbene, in quel caso, proprio per farvi capire l'anomalia del processo che ha colpito Lutano, in quel caso la Procura ha utilizzato un testimone, che era il testimone di chiave rispetto a questa imposta di rapida, nonostante lo stesso testimone che era stato già denunciato da Lutano, da Capore, dall'MLM e dall'Avella. Ebbene, quelle quattro corrette fatte da queste persone, nei confronti di queste chiave, erano stante silenziate, mi spiego meglio. Non avevano avuto esito. E allora nel processo di primo grado noi abbiamo insistito affinché il Tribunale partasse l'opportunità di considerare quel testimone non testimone, perché era stato chiaramente denunciato dei quarti. Abbiamo fatto anche una sposta, una solicitazione alla Procura Generale. Ebbene, quelle querele giornate saltano fuori il giorno prima dell'udienza dove dovevamo decidere la veste processuale del testimone, accompagnate da una richiesta di archivizzazione. Cioè la Procura fa una richiesta di archivizzazione a favore del testimone che ha fatto la denuncia tuttavia, invece porta l'altra denuncia fatta da costruire in un fronte urbano e lo sente come testimone. Questo è uno stato di diritto che è una grossa anomalia. L'altra anomalia, che vedremo perché se non vi annoio, voi sapete che il modello riace, il reato che andava a colpire il modello riace, era l'ipotesi di che cura. Perché? Perché andava a colpire la struttura del modello riace, cioè le case, il frantoio, le fattorie, i laboratori. Secondo l'accusa e secondo la sentenza, queste strutture sarebbero state acquistate con soldi pubblici ed utilizzati da a rubare gli altri impiegati, va bene per rifiuti privati. In realtà, in realtà, la prova documentale che noi abbiamo prodotto, si sta parlando di prova documentale che è la prova più importante del successo canale. Ecco, la prova documentale invece forniva la prova del contrario. Cioè forniva la prova che erano stati acquistati con fondi privati, cioè frutto delle donazioni di liberalità che erano state ricevute dall'associazione e utilizzati invece per i migranti. E sul punto abbiamo prodotto non solo una relazione tecnica e contabile con la spiegazione tecnica di questi numeri, ma abbiamo prodotto anche la documentazione proveniente dallo SPRA e dall'amministrazione dove si dimostrava che quella casa, oggetto di contestazione, in realtà era stata utilizzata proprio per ospitare l'immigrante X o dalla richiesta dello SPRA o dal migrante Y. E allora come fa il tribunale a superare questa prova documentale? Come fa il tribunale a superare questa prova documentale? lo fa utilizzando le intercettazioni. E allora guardate che cosa ha combinato il tribunale. Siccome ci sono delle intercettazioni, sta attento a questo passaggio che è un passaggio chiaro che istituisce l'ingiustizia subito da meno. Che fa il tribunale? Siccome ci sono delle intercettazioni sull'argomento da cui si intervince in maniera molto chiara la liceità dell'uso in queste case, va bene, che fa il tribunale? Dice sì, qua bisogna distinguere queste intercettazioni. Perché tutte quelle intercettazioni dopo il 5 ottobre del 2017 se non stanno recitando. La intercettazione invece genuina su cui fonda la decisione del tribunale è quest'altra che era il pareruglio dello stesso anno. Dove la trascrive il tribunale, dove emergerebbe, secondo la trascrizione errata del tribunale, me ne ha messo in bocca a Lugano d'altro cuore, una frase che non hanno mai pronunciato. E che quella frase non è stata mai pronunciata non la dice la difesa di Lugano, la dice lo stesso perito tra scrittore del tribunale e il perito di parte. Però il tribunale, va bene, ha utilizzato invece il dato, un segnale dato completamente diverso. Cioè, si dice quell'intercettazione, parlando in frattoglia qui di tutto il sistema, dobbiamo dire, dico il dialetto, a di cui ci diciamo che servono per i migranti. Cioè, ci stavamo dire che era per me, ci dobbiamo organizzare a dire che queste strutture di confrattori servono per i migranti. Ma in realtà quella frase non esiste. Quindi tutta la parte della sentenza, la diva al regolato si basa su questa intercettazione utilizzata per superare la prova documentale che noi avevamo prodotto, ma utilizzando una frase che non è stata mai pronunciata e che non è stata pronunciata lo dice il perito del tribunale, oltre a sto perito, e lo dice il cd audio perché noi l'abbiamo sentito mille volte e quella frase non esiste. L'altra cosa, e concludo veramente sempre sul peculato, è che su una vecchia casa noi abbiamo prodotto un documento, allegandolo ad una vista, come prova documentale. E nell'elenco abbiamo citato questo bonifico che era la prova documentale della giustezza dell'uso di quella casa e dell'impontatezza dell'attività. Allora, sul punto il tribunale supera questa nostra prova documentale, condanna anche per questa casa se non fosse la casa di Spirito Santo, non ricordo male, supera questa nostra prova documentale dicendo testualmente. La difesa di Lucano dice e indica nell'elenco di aver prodotto un documento, ma questo documento non è stato allegato. E lì mi sono un pochettino preoccupato perché dico, può anche essere che si è sfuggita l'allegazione. Allora, appena così, è stata pubblicata la sentenza io ero chiuso col coppio, però mi sono fatto dare ai colleghi proprio la coppia, perché non vedevo l'ora di vedere se l'avevo svegliato o se l'avevo allegata. Vi confermavano che i ragazzi, lo studio che in realtà, quel borino che era allegato sulla nostra coppia e quindi eravamo traduttibili che la coppia c'è. Il giorno successivo dell'udienza, la reggiorata, non contenta che arrivi la coppia, sono andati in cuceria e ho preso, su questa richiesta compagnato da una cancelliera del commesso, ho preso il fascicolento pro controllo per vedere se effettivamente magari risultava legato alla mia coppia e non era legato alla propria in realtà era debitamente allegato e io quindi quel giorno stesso, il giorno successivo, il giorno d'inizio, mi sono fatto fare la coppia con Polo e con l'ultimo del generico per dimostrare la corta appena che il documento era a origine allegato all'ordine. Queste brevissime indicazioni che vi ho dato, secondo me, sono assolutamente indicative della ingiustizia che è più che Mimmo ha subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tantissimo c'è il Presidente Overeio, quindi è stato Presidente della Regione Calabria proprio negli anni più caluti della vicenda di Riace. Tra voi lo sentiremo insieme ad altre testimonianze. A questo punto direi subito la parola a Mimmo che ci racconta un po' la storia che, come saprà raccontarlo a lui, mi piace nell'inizio della crisi di questa esperienza che verrà poi ripresa da altre voci. Speriamo di riuscire al testo sintetico. Sono un'occasione speciale perché ci sono tre europeo parlamentari che vi ringrazio molto, perché hanno deciso di venire fino a un viaggio, per andare in un per conoscere, per discutere di questo tema della comunicazione della storia dell'età e probabilmente mi piace poi il simbolo da questo punto di vista. Poi ci sono tutta una serie di persone che sono legate a un viaggio, legate anche nel corso del tempo per, come hanno condiviso questa storia di accoglienza, ma anche quello che è accaduto. come il senso di giustizia e cercare la giustizia e come è diventato un ideale. prima devo spiegare perché mi sono interessato nei temi delle ricrezzazioni, dell'accoglienza, della solidarietà. Io ho sempre impegnato sul piano politico, sociale, con l'idea di dare contributi per riscattare i nostri luoghi, dall'abbandono, dal senso di proposta di assegnazione sociale. Poi ho incontrato l'immigrazione, uno sbaglio, per una casualità. Un vescovo non è un sindaco. Io sono diventato sindaco nel 2004. L'accoglienza a viaggio inizia nel 1998. Per tre anni è stata solo solidarietà come volontari, come attivisti di un ideale politico. Io, in quegli anni, mi posso riconoscere un attivista nel primo momento di liberazione del popolo cultico. Ho conosciuto il mio amico che lo porto nel cuore, si chiamava Dino Fisulli, che ha fatto da questo impulso la ragione della sua vita, da un punto di vista ideale e politico. ha collaborato con me un vescovo, perché quello sbarco era stato gestito dalla rocce rossa, e questo è una struttura che si chiama Casta del Perino, in un periodo in cui in Italia c'era, sulle questioni del migrante, c'era la legge turco-nopolitanica, e non c'era nemmeno il calo di Sant'Anna. Il vescovo ha chiesto collaborazioni per un coinvolgimento di persone del luogo e volontari. Io ho frequentato quell'estate, dopo lo sbarco, quella struttura della casa del Piedervini, ho passato tutta l'estate là, e per me è stata un'occasione un po' speciale di trasformare le competizioni e i dati politici in processi concreti, con un'idea dell'estate, del luogo e della ingiustizia che subivano i compagni del Pika Paka, perché soprattutto i culti della Turchia ponevano la questione da un punto di vista complessivo, nell'area viego-orientale, prigioniera delle politiche del neoliberalismo, del capitalismo mondiale. e tardi anni abbiamo vissuto, abbiamo dato un contributo a quel ideale politico. Nel 2004 sono diventato possibile, perché da subito c'è stata la consapevolezza e l'accoglienza nei bordi scopolati. faceva rinascere il senso dell'identità, che poi è legato molto ad un atteggiamento spontaneo, senza pregiudizio. e il modello di piace può essere questo, non è per niente un modello. Io una volta ho detto che il modello dei uomini, della libertà, dei uomini che non hanno confini, che non hanno un barbiero, che appartengono a tutti, come dovrebbe essere. Penso che le comunità dove non ci sono adoptali, sono le comunità ideali. Nel 2004 sono diventato simile, nel 2009 sono stato riconfermato, nel 2014 sono stato riconfermato. Nel 2016 inizia la storia giudiziaria, rispetto ad un'esperienza che intercettava anche incuriosiva, come studiosi, antropologi, sociologi, perché volevano capire come mai in un piccolo luogo dove ci sono storie di emigrazione, dove non c'è lavoro, dove ci sono più parametri sociali negativi, dove c'è anche la presenza della criminalità organizzata, attraverso le sue, attraverso fisionomie differenti, però sempre con l'intenzione di esercitare forti condizionamenti sulla dieta sociale. e poi è stato un luogo che è da tutti poi identificato come la punta probabilmente più avanzata delle politiche dell'accoglienza che quello in Italia. Ecco, è un luogo di immigrazione che diventa un luogo di invitazione, dalle partenze agli affibili, senza risorse a volte, solo con la forza di assecundare un ideale di accoglienza, di solidarietà, di fratellanza. E quindi si sono costruiti i presupposti di tutti per identificare quello che avveniva hanno detto che il modello piace. Questo è il fatto che il modello piace. ovviamente essere sindaci o interessarsi di politica significa avere degli ideali, credo se non ha senso, che erano gli stessi ideali che davano entusiasmo a mio agire anche a livello istituzionale. per me non c'è stata una fase prima di essere sindaco e dopo. E' stato un fenomeno, anche questo che spiego in maniera del tutto spontanea, naturale, come un percorso che fa parte degli impegni, che poi prescindere da essere, da ricoprire un ruolo, come adesso. Io adesso sono un cittadino del villaggio globale di Riace. Quello che ancora rimane, quest'aurea di accoglienza, di solidarietà che sto cercando di portare avanti, a piccina del regolo. Abbiamo il Comune Consul, abbiamo la Regione Consul, abbiamo una cultura, l'Italia, che dal 2015, voglio esserci voi, degli anni in cui comincia la legittimazione di quello che avviene al viaggio. Una cultura in Italia che è una deriva proprio dall'est, dall'est fascista, dall'est che che è reazionale, che vede nell'imbigrazione tutti i mali del mondo. Nel 2016 comincia questa deriva giudiziaria. Io voglio però scendere nel dettaglio perché potrebbe apparire come se io voglio trovare degli anni, costruire delle giustificazioni rispetto a quello che mi è accaduto, come nascondersi dietro i grandi ideali perché io sono occupato di tutto quello che ho detto. Allora, andiamo. Iniziamo nel mezzo, reato per reato. Io, meno male che c'è mio avvocato ancora. Allora, che cosa, che cosa, quale reato hanno determinato questa condanna di 13 anni e di 2 mesi? Sono stato condannato di più grave per associazione atelingo. Quando abbiamo chiamato i testimoni, la difesa, quando è d'avvocato, lui mi ha chiesto quali sono state le persone vicine a te, vicino, che hanno contribuito a determinate. Mi sono ricordato la prima persona che ha conosciuto con me che mi ha chiesto una collaborazione per la gestione di quello sbarco dei troppi curvi. Il Vescovo di Rocco, all'epoca si chiamava Monsignor Brigantini. Non volevo chiamarlo, non volevo scusarmi, ha chiamarlo, perché avevo idealizzato molto la sua persona. Aveva dato una forte profondità alla mia competizione ideologica, alle mie competizioni ideologiche, agli ideali. Di fatti lui la curva dove veniva la comunità di base, che era un ex decreto operario. e io avevo sempre pensato che gli ideali della sinistra, che una volta veniva identificata, sinistra ex parlamentari, sono stati comunitanti di quegli ali. Non voglio dire con orgoglio, senza nessuna incertezza. Anche oggi, per me, dentro la coscienza è così. Ma Brigantini era legato alla teologia delle operazioni, e anche il messaggio evangelico, il messaggio delle industrie sociali, hanno questa convergenza. Hanno un'unizzonte che è molto simile. Sicuramente razzismo, fascismo, odio, naziali, egoismi, non vanno verso la direzione dell'utoria sociale. Vanno verso la costruzione di una società desumana. Il viaggio è stato come una cartina, non lo so, dove queste due idee di società, che probabilmente hanno determinato anche, hanno avuto un peso nella denigrazione di quello che avveniva qua, dimostrava in una maniera proprio drastica, dimostrava come la destra non può essere una dimensione umana. La sinistra sì, a parte i partiti, a parte poi la storia, e poi vi dirò questo che c'è, per me è un'azione speciale, questa sera, non lo dico perché è una frase così, ma proprio perché ci sono introvertori che hanno avuto a che fare, e che sono un padre. Bredentino è venuto a fare il testimone, Alerina ha detto sì, ma ha detto un sì con una forte convinzione, mi ha detto Andrea, se l'ha chiamato lui, io non avevo il coraggio di chiamarlo, ma non solo è venuto a fare il testimone, è ritornato, ha detto sì, ha fatto la situazione delinquere, l'ho fatta anche io, io sono un ancio della situazione delinquere, non è stato condannato, non è stato condannato, ma poi l'ho fatta sulla situazione delinquere con tantissimi interduttori, perché questo fenomeno sociale dell'accoglienza è stata un'accoglienza plurale, questo termine l'ha insegnato Giuseppe Parnelli e un altro delle persone che hanno avuto a rifare con la storia. Plurale significa che io ho collaborato con il creatore Napoli, ho collaborato con il presidente Oliverio, ho collaborato con Maurizio, ho collaborato con tantissime persone, magari tutte con intenzioni, come la mia, di immaginare un mondo più umano, migliore, senza barriere, senza puntini, di rispetto dei diritti umani. Questo è che muove l'interesse per la politica. Senza questo la politica è che ti segui. Quale entusiasmo ci può essere dentro che ti porta ad avere impegni, a sacrificare, quale? Anzi, quando è così, manco di accorgere sempre, e tutto sembra un fatto naturale. Quindi io sono stato condannato per l'associazione Terribile. Questo che ho fatto con il Vescovo, ho fatto già la stessa materia, che è anche un altro milzionario, concorriano, che il Kramer ha detto che non è attimidibile come test perché non ha sufficientemente l'esperienza nel settore dell'immigrazione. Bene, Paci Alex ha fatto il missionario in Africa, in Sudan, per otto anni, e a Corocogio, che è un barocoglio di Nairobi. L'ho fatto per dodici anni. Lui veramente, mi viene da quelle droga a pensare che Paci Alex è stato definito che non attendibile perché anche il PM aveva tentato di dire il Vescovo non è attendibile perché lui in un periodo che è stato Vescovo non corrisponde con l'inizio e con la fine della scuola giudiziaria. Quindi, ma il Vescovo ha detto che l'ha invitato a leggere il libro di Marco Francesco e l'enciclica, fratelli e l'ultima, ha detto tante cose con l'ex sindrome che abbiamo fatto insieme tanti anni fa. Quindi, la soluzione è vero. Poi sono stato condannato per l'abuso d'ufficio. Che cos'è l'abuso d'ufficio? Questo è un reato di solidarietà. Io non voglio, non ho voluto mai ricordere a queste parole, anche oggi, che il tema della presenza dei tre europarlamentari e di tutte le persone che sono arrivati in questi giorni a viaggio era molto legato a questa criminalizzazione della soluzione di solidarietà che anche c'è stata. Io non ho voluto mai ricordere questo. Non ho voluto mai essere un animo. Analizziamo. Reato per reale. Sono stato condannato perché ho trattenuto i migranti più dei sei mesi consentiti dalle famose rime guine. Ma allora, anche adesso, gli uomini c'erano spesso. C'è un'accoglienza spontanea nel bordo dei viaggi. Di persone che arrivano ma che non hanno una... che non arrivano perché rimane il Ministero degli Interni o la trattura, arrivano con le loro gambe, donne e bambini che non hanno dove andare. Nel villaggio dell'accoglienza trovano ancora oggi, senza progetto, attraverso una rete internazionale di solidarietà. riusciamo a dare risposte. E questo, per me, è un fatto importantissimo sul piano politico. E vi dicevo prima che prescinde dai ruoli, non solo più sindaci. Il Presidente Monaglia non è più Presidente. E sono le cose della vita così inevitabili. sono stato contattato per avvenuto un ufficio per lo sostenuto dei sienesi consentiti dalle promosse rime guine. Gli chiamano il lungo permanente. Guardate che terminologia che si è sviluppo. L'antestino, lungo permanente, non aventi diritto. Tutte cazzate che scrivono e tutte le norme sull'immigrazione sono norme restrittive. Mai fatte per favorire le persone, per rispettare chi è in puro dalle guerre e non solo, anche dalla povertà, dalla riserva. Sono stato condannato per truppa aggravata, per i non aventi diritti, come io avrei determinato un costo maggiore rispetto ai 35 euro pro capite per lo indietro. In realtà, la truppa da parlo Stato, nel momento in cui tentano di cacciare e di mettere le persone nella strada. Perché vuol dire quello, un fallimento anche sul piano economico. Non ci vuole molto ad essere economisti a capire questo. Perché tu quando, dopo sei mesi, non hai raggiunto che devi cacciare le persone è un fallimento per il tributo, da tutti i punti di vista, compreso quell'economico. Sono stato condannato per tripulato, ve l'ha spiegato Andrea, tutto quello che abbiamo costruito per il borgo urale è stato un tentativo di rispondere all'esigenza di integrazione. Istintivo, non studiato o costruito seguendo una strategia così. È come se l'esigenza della quotidianità, del dopo progetto, di dare opportunità. E da sindaco questo io capivo che nel percorso non solo aiutava i migranti, ma aiutava anche il territorio a non essere più un luogo di abbandono, a non avere una speranza. Solo che abbiamo, abbiamo generato delle speranze, è stato un elemento importante. Chiude gli aspetti con oggi. Ci può essere qualsiasi ricchezza ma quando non c'è speranza, quando il luogo diventa un luogo di degrado. Ma non ha senso la ricchezza del mondo. E' meglio non avere nulla ma avere la speranza. Quello che abbiamo fatto. Viace è stato un luogo che ha dato speranza ma ne ha ricevuto dalle persone che sono in altre parti. Le persone sono sempre qualcosa di speciale, di qualunque razza del mondo. non è vero che sono solo un problema. E' una narrazione, anche sul piano mediatico, pericolosa. Quella che ti fa impaurire dalle altre persone, dal rapporto umano. Nella Calabria, questo veramente è un tratto che lo voglio rivedicare. Soprattutto la Calabria, la chiamano la Calabria ultimabione. La fierezza di rinforzare le altre persone. Non il pregiudizio. Non così, ma di guardare meglio. Questo è l'orgoglio della nostra terra. Io quando ero lontano, avevo questo orgoglio. Vedevo quello che era troppo a me, dove tutto è un sospetto. dove tutto è un'idea di approfittamento, dove tutto diventa una rivalità. In che senso valore. E che il modello piace è stato tutto questo. Dentro una speranza, io dico, di una nuova umanità. Come dovrebbe essere. Sono stato condannato, per attenzione, pregolato, di tutte queste proprietà. Io non sono proprietario da niente. L'Avvocato ha detto che si sono scandalizzati, che basta guardare. Appartiene alle associazioni. Addirittura ho ricevuto un premio, questo inverno, in Svizzera. Io ho continuato istintivamente, senza nessun volere dimostrare. Non l'ho fatto per questo. Questo palazzo ci ha dato l'unice. Ma era un po' malandato. Io ho utilizzato dei soldi che mi hanno dato un premio nella Svizzera. Proprio agli indomani per la sentenza. La sentenza è stata pesante sul piano, devo dire, non solo degli anni che mi hanno messo per la pena, ma sul piano volare, ma sul piano volare, in tutti i modi. Però, devo dire, ha generato gli effetti possibili. Non ha fatto cadere nella mia mano questa storia. Addirittura c'è uno che io sono legato, come c'era un pensiero che si chiama Adriano Sofri, che ho incontrato a Firenze e ho detto vedi che quella è una sentenza suicida che cerca di aiutarci. Si è messo di mezzo pure lui. Condividiamo gli stessi ideali. Non è un fatto di età o dei luoghi dove siamo. e questa è la cosa più bella della sinistra. Quella di fare parte di un unico orizzonte, di condividere al di là dei luoghi, di dove siamo, di dove non siamo, dell'età. E io la provo così come una forma di innamoramento. È bellissimo questo. Non ha senso niente se non c'è questo entusiasmo. E Adriano Sofri ha detto guarda che forse è una sentenza suicida. Mi hanno dato un premio a Parma. Magari senza quella sentenza non ci sarebbe stata la raccolta buona di Manconi. Io non sono mai riuscito ad avere lancori per i giudici che mi hanno condannato. perché anche mi aveva revocato con i suoi cordellari. Mi aveva dato la possibilità di ritornare adesso una persona libera. Perché io ero l'obbligo di non dimora a viaggio. e anche quando ho fatto quella sentenza, anche oggi, non riesco ad avere lancori. Anche da questo punto di vista credo che è importante non avere dipendente, non avere lancori. E' andato così. Io non sono più piaciuto da nessuno. Mi hanno condannato. Adesso spero che questa condanna vengano ripartata. C'è sempre la speranza. Ma quante cose positive ha generato questa sentenza? E che necessità c'è da parte del giudice, questo è il manco di mistero, di raccogliare la sentenza del procuro. La sentenza del procuro è che dove c'era anche la confusione. Un teorema della confusione completamente inventato. E che ha risposto bene alla gente nel viaggio. Nessuno più è andato presso quel venditore. Proprio nel silenzio c'è stata una risposta che il popolo è stato giudice. Perchè semplicemente io non ho chiesto a nessuna... Non lo guardate. Non lo guardate, guardate. Senza luce non posso chiedere perché lo scusate. E' un pratico di pazienza. Sì, sì, grazie. Grazie. Va bene, ecco. Più la rosa, ci vediamo. Dello scorso. Grazie. Grazie. Senza la confusione, invece di sette anni, negli ultimi 15 mesi. Questa è stata la richiesta da parte del procuro. Ehm... Il popolo filiaceo, diciamo. Diventava, magari quando mi avessi avvocato, due o tre anni. Poi... Poi sarebbe stato possibile poi arrivare a tredici anni nei primi mesi. Ehm... Quindi è stato quasi un marchigene. A questa opinione... Non siamo d'accordo tanto con Andrea. Però... E' stato... E' stato convinto. E' stato convinto. Perchè poi lui è andato... Questo che mi ha accusato. E' andato... E' come testimone... Ha sconfessato. Ha detto... Non mi ha chiesto nessuna tangente. Forse... Io non c'erano realizzare. Non lo so. Non lo so. Ma... Poi sono stato... Sono stato... Sono stato convinto. Queste condanne qua. Hanno determinato... Dieci anni e quattro mesi. Per le decursioni. Non ho capito perchè... Ehm... Ci sono altri ideati. Come esseramente erano altri due anni e dieci mesi. E che sono... Ehm... Ehm... D'armi reali. Ehm... Questo... E'... Un'angio con danna... Che... Che... Non lo so se... Se... Se ridere... O se... Perchè... 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 In pratica... Ho fatto delle carte d'identità per una qui... gli sudanesi, ero diventato l'essorzabile dell'ufficio di Nago, del mio comune, che è andata in attenzione in un grado di prima, e non mi sono avuto pagare 5 euro per 5 centesimi. E poi quel tributo lo abbiamo eliminato completamente, anche per il cittadino di lavoro, dal 2012 al 2018 non si pagavano più, né carte d'identità, né carte d'identità, né carte di rinascita, queste cose qua. Forse avrei dovuto formalizzare, fare la pericola di sud comunale, però io, il fatto che più mi è triste, è che le carte d'identità ho pagato con i miei soldi, all'albergettura li contattavo con i miei soldi, non li pagavano nemmeno un giro in città, nemmeno ho portato al comune, mi piace, una tazzina di caffè, come dei borsi, sospetti, e mi hanno contattato, le hanno stato contattato, non le so se erano anni o tre anni, poi mi hanno contattato per il fiù, e qua voglio parlare. Questo è un argomento che merita una trattazione particolare, poi che continui. Allora, sono diventato sì nel 2004. Ogni anno uno dei servizi più importante, che è quello della raccolta dei rifiuti, lo faccio iniziare ad andare durante il suo dibattito. Ogni anno, quando gli uffici si preparavano per regalare il palto, sistematicamente rimaneva la giudicataria sempre la stessa vita, non rifiutava nessuna, come oggi, che gestiscono 50, 60 comuni, anni. Ma la qualità del servizio, soprattutto nelle stagioni estive, è molto precaria. Allora, ho pensato... su questo abbiamo fatto un ragionamento con un ex assessore del comune di Coricella, che era il più esperto di me nel settore, così, del riutilizzo dei rifiuti. E abbiamo pensato di mettere in alto la porta a porta differenziale. E di fare l'affidamento, proprio per risolvere questo dominio, così, da parte delle ditte, delle ordini, che secondo me sono anche in complicità con... con chi, ad esempio, in Calabria nasconde i rifiuti raiattivi, di rifiuti pericolosi, o nel terreno, o nel mare. E abbiamo fatto l'affidamento alle due cooperative dell'orgo, la cooperativa di Aprenone e la cooperativa Ecoliati. Le cooperative erano costituite da disoccupati dell'orgo e rifugiati. Sempre con quel criterio di essere un'opportunità sia per i cittadini di Lugia, sia per le persone del rivoluzione. E mi hanno condannato, anche qua, per la trutturativa della stessa. Questo è l'elenco delle rivoluzioni. Poi, in giudice, anche questo, che ho avuto una propizia politica. E forse qua non si sbaglia. La mia propizia politica è quella che avevo avuto più prima. Cercare di approfittare del fatto che l'aerocinico può perdire il messaggio politico della solidarietà, della fratellanza, dell'accoglienza. Un messaggio che è connaturato con l'idea della sinistra. E il messaggio della destra è un messaggio presentato da quello che vuoi invitare con l'avanzare di un'idea egoistica della società. Prima gli italiani. Hanno fatto in modo che l'ultimo decente della nostra vita sono stati decente tristi di violenza, di odio, di guerra. Che ha questo. Così si genera. Così. L'egoismo è alla base. Un'azione proprio di igualità. di... Praticamente la narrazione mediatica in Italia addirittura era diventata ossessiva. anche le parole. Emergenza. Invasione. Prima gli italiani. Io vi dico una cosa. Quando mi stava accadendo tutto questo, questo tentativo che vedevo qualcosa sul piace che tutto è il contratto. Per gli anni mi diventa come una forma, come un peso. Sono andato a trovare come sindaco, il presidente delle regioni calatrici. Ho chiesto un appuntamento alla sua servideria. Era... ho atteso tutto il giorno. E' serpente a sera. Il presidente era... quando noi conciato avevamo così... era già stanco. Magari ha detto, ma cosa vuole questo cilindro? E all'inizio mi ha detto quasi... alzavo la testa. Poi a un certo punto ho capito di aver intercettato la sua attenzione. Questo per me era importante. Poi ci ho messo a parlare. mi ha detto... perché io sapevo che lui, quando l'ex ministro degli interni avevano avuto militanze nello stesso partito, perché il nostro proteggiano l'hanno. E man mano, il presidente Bolivar, io praticamente... l'ho visto per dentro. Non lo so se per un ideale politico o come una persona della nostra terra. Ho visto che fa come prevalere un atteggiamento di comprensione, di umanità. E poi è stata una scelta definitiva. Quella di... io ho pensato, ma... ma il presidente ha scelto di stare non dalla parte... ma come presidente della regione. Ecco il bello messaggio politico del presidente Bolivar. Come presidente della regione. Non era un ultimo arrivato. Potere essere il primo. Avere a che fare con poteri che io non conosco. Ma lui ha scelto di stare dalla parte di chi non ha poteri. Di persone come me. Di non essere... e da andare su parte del telefono. Io ho detto attività mente. Ho potuto confermare. Ho ascoltato Mario. Sì gli dicevano i miei. Vedi che il viaggio non ti porta il consenso. Si doveva votare perché doveva arrivare il 4 marzo del 2018. Alla fine il presidente Bolivar si è schierato. Mi ricordo che c'è stato un tentativo, una sera proprio di cacciare le persone dal viaggio. E c'era anche un bambino di sette giorni. Gabriele. Presidente ha chiamato di lettura. Attenzione se domani andate con il pullman al viaggio. Io mi metterò davanti al pullman. E poi alla fine. Perché mi mancava il timbro. Il timbro è una firma su una montazione. Allora bel fredetto. Bel fredetto che ha avuto un ruolo centrale nella denigrazione del viaggio. E poi ha avuto la propria promozione. La promozione dall'ex ministro cristiano come capo di partimento. E poi non so. Anche la sua moglie è venuta fuori. Che ha avuto storie di collaborazione con i capolari. Con chi vicino al corpo mezzanone facevano questo tipo di attività. Lo stesso prevento che era formalmente responsabile per il centro di San Ferdinando. Lancio molto della Calabria. Il porto del barco. Mi piace San Ferdinando. La scelta. Lo Stato. I poteri morti. in questo tentativo di criminalizzazione. Praticamente io penso. Senza voler creare armi. Ve l'ho spiegato già. Quando sono stati i motivi che hanno terminato a contare. Devo dire che queste parole di parcheggiamento. Non ho mai parlato solo. Ma nemmeno se devo fare due giorni di galera io sarei pronto a rinunciare a niente di quello che ho fatto. Io non rindevo nulla e riparai tutto con maggior condizione. applausi. Vi dicevo prima che ci sono molti qui che attestano questa storia. L'ultimo che mi è piaciuto vedete per farvi vedere. Diceva non rimarrò in silenzio. Avete sentito come con molta precisione qui ci ha tenuto a spiegare i meccanismi che sono alla base della fine del modello di viaggio. Della storia di viaggio. Quello che sono state le determinanti della crisi. Quindi credo che ce ne sia abbastanza per sentire le ancora molte parti. Io, come è stato più volte citato, lasciarei adesso la parola. Ovviamente ci sono altri 45 interventi quindi chiederei di essere ragionevolmente sintetico per dare modo anche ai nostri ospiti che sono fuori programma per così dire. Ci stanno ascoltando di intervenire nella discussione. ma credo che sicuramente sia il momento di sentire il Presidente Giuliani. Io forse di essere brevissimo per consentire a tutti quanti di ringraziare e soprattutto a tutti voi di servire gli interventi. Innanzitutto io voglio ringraziare Mimmo, che aveva avuto la mia presente, ringrazio Mauizio, appunto che in questa testimonianza ci fosse anche la mia testimonianza. Io ritengo questo incontro importante e ringrazio la delegazione parlamentare e i parlamentari europei che è qui, oggi, perché considero questo incontro una occasione importante, perché attraverso questo rapporto diretto, questa conoscenza diretta, esperienza che appunto è diventata un riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le problematiche dell'accoglienza, attraverso questa conoscenza diretta si possa avere più determinazione, più convinzione per porre sui tavoli europei, sui tavoli giusti, a riproporre questa problematiche, soprattutto per riproporre questa esperienza. Mimmo ha raccontato, se vuoi scientificamente, quella che è stata questa esperienza. Riace è stata un'esperienza, un campo di come è possibile praticare l'accoglienza, di come fare di un fenomeno, quello dell'indicazione, che è un fenomeno che non si è, come dire, spento, non si effugge. La guerra in questa fase ripropone, per quanto riguarda le vittime ucraini con questo fenomeno, e ha fatto sì che si spegnessero attenzione su quella che è una, come dire, polveriera che rimane sempre tavola, che va più grave dal punto di vista economico, sociale, che è appunto il sud del Mediterraneo. Perché quella polveriera, appunto, rimane interamente attiva. E quindi, io vorrei fare una questione partendo da questo, diciamo, angolo visuale. E quindi riproporre questa problematiche, riproporla per indicare strade, per costruire soluzioni, è di fondamentale importanza. Guardate, Riace è stata un'esperienza importante, e Riace volvamente è stata storica. Riace è stata vittima, appunto, di uno sconto di visione politico più alto, di dimensioni più alte, proprio perché Riace proponeva una strada che, se seguita, poteva essere la risposta. Naturalmente, con i necessari adeguamenti, giustamenti, in corso d'opera, rispetto ai contesti nei quali poi il fenomeno dell'immigrazione si veniva a collocare, però quella deve essere la risposta. E, naturalmente, la cultura illuminante. Una cultura che pensa di risolvere, come dire, i problemi sul terreno della comunicazione e della suscitazione di paure, della suscitazione di paure, di un fenomeno, appunto, un tormento alimentatore di paure, perché attraverso l'alimentazione delle paure si possano costruire blocchi di consenso e si possa costruire, soprattutto, un orientamento nei governi, nelle risposte dei governi. Parliamoci molto chiaramente. Riace è stata, per questo, struzzata. ed è stata, struzzata, ricorrendo, e qui dopo la testimonianza, ricorrendo alla costruzione, non dico di teoretico, se non voglio riprendere, di costruzione, di qualcosa di mostruoso. Lui Moriace l'avete ascoltato, l'avete sentito, lo conosciamo, io lo conosco da anni, conosciamo la sua vita, conosciamo la condizione della sua famiglia, conosciamo quelli che sono stati anche i riflessi di questa scelta che lui ha fatto negli affetti e nella condizione di vita della pubblica. Quindi, la sua... il Moriace è quello che leghiamo. Moriace non ha, come dire, una seconda o una valleva vita, quella che ha vissuto e che continua a vivere. E quindi, cioè, si è immesso pienamente in questa, in questa, in questa esperienza. A un certo punto si è stato costruito qualcosa di mostruoso. Guardate, io ero da prescrizione alla regione. Allora, che fare tutti i giorni? O quasi tutti i giorni. Io ricordo anche le telefonate che rivevano dalla prefettura di Reggio Calabria per chiedere al Mimmo Fugano di ospitare. l'immigrata che sbarcavano. Quelle cauti e stagioni del 2016, 2016, 2018, quando appunto c'era un afflusso di immigrati che andava governando. L'immigrata di conto, l'immigrata di Reggio Calabria, perché si potesse, come dire, far carico del Morale. Tante volte, un'altra pubblica, eccetera, eccetera. Paralossalmente, diciamo, la stessa, come dire, gli stessi soggetti sono diventati agenti della costruzione di questa costruzione. attraverso i nomi di commissari per l'indagine, eccetera, eccetera, guardando la parte amministrativa. Voi dà sicuro che era una parte amministrativa. Voi dà sicuro che era una parte amministrativa e ci possono essere i soldi. Voi dà sicuro. Però questo non può essere utilizzato per costruire, appunto, quello che è stato costruito. Perché quello che è stato realizzato a Riace, beh, magari di una lunga oltre, quello che può essere un rilievo formalistico. Purtroppo l'Italia ha una costruzione, praticamente, soprattutto nella parte amministrativa, di formalismi che annunna una sostanza, spesso, e anzi la moltifica una sostanza, spesso, il prevalere di questi formalismi. Ma, probabilmente, qui è stato costruito come è stato costruito, dal punto di vista giudiziale, le cose che quanti sappiamo, che è stato ricordato prima, che è da minimo adesso, si è arrivati persino a raddoppiare una pena rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ma, insomma, è una cosa che non esistono in nessuna parte del mondo, diciamo, nella storia, diciamo, di queste cose. Tutte stanno avanti nel medioevo appena queste cose. Perché? A ripropa del fatto che bisognava stroncare quel tipo di percorso. Bisognava bloccare quella strada. Mimmo ha fatto riferimento sull'intervento sia la parte, diciamo, dell'accoglienza come, appunto, approccio umanitario rispetto al fenomeno, questo è un fatto importante, la civiltà in Europa, la civiltà europea, è segnata rispetto anche da altre parti del pianeta, appunto, dal rispetto della dignità, della dignità umana. Quindi, l'esperienza di Riace non è solo della civiltà, della storia della civiltà, della civiltà europea. Ma, parimenti a questo, è, diciamo, l'altra faccia, è quello che, appunto, io credo che su questo bisogna rimettere poi più, bisogna rimettere poi più persone che bisogna andare completamente su questo aspetto. Cioè, il fatto che è stata l'accoglienza, è stata anche trasformata in opportunità per centri con questo. Noi abbiamo questi centri interni, soprattutto, e soprattutto nel sud e in Calabria, che si sono svuotati nel corso degli anni. C'è un patrimonio identitario, un patrimonio umano, un patrimonio immobiliare, c'è un patrimonio storico, che, appunto, è stato sviluppo da questo svolamento. Riace, comunque gli anni, ha rappresentato la possibilità di invertire quel treno. C'è la possibilità di ripopolare questi centri, questi piccoli centri, di farli rivivere, questi piccoli centri, di fare in modo che la scuola riprendesse l'attività, l'artigianato riprendesse l'attività, la economia di questi piccoli centri si rivitalizzasse. Questa è stata l'esperienza di viaggio, quindi l'altra faccia dell'esperienza di viaggio. E io credo che bisogna riprendere, lo dico perché c'è delle ragioni dei parlamentari europei, perché, appunto, anche questa esperienza venga assunta per una critica di recupero e di ripopolamento di questi centri, attraverso misure di sostegno che devono andare ben oltre il fatto delle 35 euro ad personam dei rifugiati. Cioè accompagnare, un'accoglienza, una strategia per recuperare questa... È di fondamentale importanza. In fondo, e qui faccio una parentesi perché non voglio adesso buttarla in un discorso politico. In fondo, anche la vicenda o la pandemia del Covid in questi anni ha fatto riscoprire il rapporto con la natura, con il territorio, cioè il decongestionamento anche della... la necessità di decongestionare le aree metropolitane attraverso un recupero di questi centri. Anche quelli che sono i processi innovativi, la digitalizzazione, il lavoro a distanza, eccetera, eccetera, consentono di realizzare una strategia di recupero di questi centri. quindi di coniugare la presenza... l'accoglienza, la presenza dell'immigrazione con una strategia di recupero di questi centri, di riancio delle economie. Mi si permette anche di dire di recupero dei territori. La vicenda l'Ucraina, questo ci dice. La crisi ambientale, questo ci dice. che è possibile recuperare, non solo dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista puntivo di terreni che gravitano a questi piccoli centri. Non per ritornare ad un'agricoltura della Zapp, ma che attraverso l'utilizzazione di strumenti innovativi si possa aprire e quindi coniugare l'accoglienza con una strategia. E l'Europa, mi permetto di dire che c'è una delegazione di autorevoli parlamentari europei, l'Europa è giunto il momento di mettere al centro questa riflessione. perché noi avremo anche a fare per un lungo periodo, lo sapete meglio di me, come cose che sono spuntate, con flussi di persone che verranno verso questi nostri paesi. Non so come andrà a finire la vicenda anche delle terrafie alimentari dell'Ucraina e della Russia verso i paesi del sud del Mediterraneo. non so come andrà a finire, ma vedo che ci può essere un'ulteriore benzina, un'ulteriore miscela per alimentare il fuoco della fuga, il fuoco della fuga di milioni di persone. Quindi è importante per questo questo interventaggio. Riace è stata un'esperienza che non deve morire. Riace non può essere, come dire, cancellata. È vero quello che dice Mimmo. Il processo e le condanne che ci sono state hanno avuto anche un effetto, diciamo, come dire, controproducente per chi pensava di stroncare con una condanna a minimo locale di stroncare dell'esperienza di Riace. Però questo è vero se, appunto, le esclusioni non girano la testa dall'altra parte, non fanno gli indifferenti e soprattutto non cedrano momenti come questo, come momenti di appello, di incontro, ma li fanno per trarre conseguenze. Conseguenze dal punto di vista delle scelte, delle politiche e delle misure da assumere, perché, appunto, io sono convinto che, alla fine, la giustizia preparerà. Io sono stato... Anch'io sono stato, da Presidenza della Regione, oggetto di un provvedimento giudiziario. sono stato nel dicembre del 2018, il 16 dicembre del 2018, sono stato oggetto di un provvedimento di confino, al mio... da Presidenza della Regione sono stato confinato. Poi... ci sarà da caso una coincidenza, diciamo. Tra la vicenda di Pico Lucano, la mia vicenda, non voglio dire che sia una del però, ci sarà da caso una coincidenza. Dopo di che, praticamente, io ho chiesto il processo abbreviato, perché ero sicuro che era costruita sul nulla. sono stato assolto, perché il fatto non sussiste, dopo un pronunciamento della Cassazione che aveva, dalla Corte Suprema di Cassazione, che aveva annullato quel provvedimento di confino, con la motivazione che io ero stato oggetto di un chiaro pregiudizio accusatorio, testuali parole della sentenza della Corte Suprema di Cassazione. il giudice a cui ho chiesto l'abbreviato mi ha assolto, perché il fatto non sussiste, la propria non sia opposta a questa sentenza, a riprova che, appunto, non c'erano gli elementi per opporre a questa sentenza. Ma io, la Presidenza della Regione, ho subito quel procedimento, ho subito quella misura, ho subito politicamente anche l'esclusione. Ma perché dico questo? Perché Mimmo va bene a dire io non ho francore verso i giudici magistrati. la stessa cosa affermo io, non ho nessuna cosa. Rifletto però, anche sulla base della mia esperienza, sulla base dell'esperienza di Mimmo, quella di tanti altri, di tanti altri in Italia, rifletto su una giustizia che non funziona. perché è un paese civile, è un paese nel quale si può sbagliare una volta. E quando si sbaglia, si deve rendere conto. Perché così come rende conto un medico in un ospedale fa ricorso a un'assicurazione quando sbaglia, così come in qualsiasi, in una qualsiasi professione bisogna rendere conto quando si sbaglia, anche un magistrato che sbaglia deve rendere conto, perché questo è un ufficio appunto. Ma siccome gli errori non sono errori, come dire, come incidenti rari in un percorso, ma sono ormai un sistema, un sistema, e allora c'è qualcosa che non va, bisogna modificare, bisogna modificare il sistema. Niente rancori, ma necessità di modificare un sistema e un sistema marcio. Perché, appunto, la sfera dei poteri deve avere un giusto equilibrio. E la vicenda di riace, mi permetto di dire, anche la mia, perché io parlo con le sentenze di giusta, ma la vicenda di riace, che è in attesa di sentenza definitiva, è una vicenda che reclama giustizia. Reclama giustizia, oltre a riproporsi come prospettiva per dare risposte concrete, sia sul piano umanitario, sia sul piano economico e sociale, per governare i fenomeni. I fenomeni non si contrastano con i biometri, come quelli dell'immigrazione, si governano. E riace, è un esempio di come si può governare questo fenomeno, dando risposte positive in termini di civiltà e in termini di rispetto dei diritti umani. Grazie. Abbiamo scoperto che ci sono tante anomalie, in questo caso, quindi tutte cose strane. Abbiamo anomalie per non dire che c'è un teorema, che comunque c'è un'idea più grande di persecuzione, come abbiamo detto noi al festival. Quindi ci siamo presi noi la briga di parlare di persecuzione. Io ho una sensazione, resta me proprio un istante prima di lasciare la parola al prossimo testimone, che in Italia, ma anche in Europa, più che la criminalizzazione della solidarietà, si stia adoperando in molti punti del nostro continente con una criminalizzazione del dissenso. È un fenomeno politico grave, perché se guardiamo le estremità dei comportamenti politici, là dove ci sono i gruppi di resistenza più forti, è uno per tutti, lo ripeto, quelli che si oppongono al treno ad alta velocità in Piemonte. 31 anni di resistenza non sono un fenomeno normale, sono qualcosa che avrebbe guardato con un oggio particolare. L'istituzione di un'apertura che si occupa esclusivamente di queste forme di protesta. E sono segnali inquietanti. non si può pensare che una valle abitata da centomila persone, peraltro, non del sud, dove siamo tracciati spesso di collusioni mafiose, di condiverenze, con tanti altri fenomeni degenerativi. Stiamo parlando delle regioni più evolute del nostro paese. Si possa pensare di un fenomeno del genere? Abbiamo ricordato però il Piemonte e anche i quadricologi sono sempre fatti la stessa da fare. Assolutamente. Ce ne sono altri di questi fenomeni in Italia. Possono essere considerati dei criminali e quindi sottoposti a delle leggi speciali per la repressione. Questi non sono fenomeni democratici. Per cui, voglio dire, anche la magistratura dovrebbe interrogarsi da certe estreme. Perché ormai queste cose, come diceva il Presidente, non sono più anomalie occasionali. Sono fenomeni ricorrenti. Quindi abbiamo bisogno di un'attenzione speciale. E quindi su questo, diciamo, dovremmo non abbassare la guardia, ma continuare a guardare il nostro paese con un minimo di preoccupazione. Perché sono forme degenerative che poi possono indurre fenomeni più grandi. Io però, a questo punto, devo dare la parola. Siccome abbiamo cambiato un po' la scaletta, spero che non sia andato via, il Professor Cersosino. Vengo Cersosino. Eppure, non c'è stata. Ecco, arriva. Lui è uno dei testimoni di questa esperienza. Lui, incrociato, anche io, felice della mia vita perché mi occupavo di sviluppo locale internazionale. Lui era un faro di questa vita qui. Credo che qui, a Chiace, il Professore, abbia trovato terreno anche per queste sue elaborazioni. è una cosa che ho incontrato il Vice Presidente della regione di Cersosino quando io recinto. E lui, è stato quello che ha fatto studio sulla regia di ciò che è un grande anno e ha una calce che per me è una delle cose più belle che è una calce che è una calce che è una calce che è una calce insomma. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. La Biblioteca, diciamo. Briance è un modello con una forte intenzione politica. qui, lo dico così perché la deriva dell'orrore artificiale dipende molto da questo tipo che è un modello ed è un caso molto diverso agli altri casi. E' l'unico caso che con questa intenzione politica è fortissimo. Questo è il carattere distintivo del movimento. Torniamo il movimento in politica di questa cosa diciamo. abbiamo altre esperienze in Calabria altre esperienze in Italia ma nessuno ha questa caratura intenzionale politica. Questo è il movimento diciamo. Non una mera politica umanitaria l'accoglienza ma che è importante Cima Grezzo tanti comuni che fanno l'accoglienza ma un'altra cosa un'altra cosa cioè ridurre gli sbandaggi delle sofferenze che sembrano una cosa la Riace non è solo questo cioè la Riace prova ad andare alla radice delle sofferenze questo è la politicità del caso Grezzo si interroga perché il monte è così disugale perché il monte è così disparito perché il monte è così così tante faglie vecchie nuove sono caratterizzate le sofferenze del nostro mondo e le sofferenze non solo dico da queste cose di studi non si risolvono con la redistribuzione quindi tutta una fase storica socialdemorale di studi è stata importante le sofferenze non si risolvono con la semplice redistribuzione né con le modiche compassionevoli per ridurre un po' di più a chi ne è male no no per ridurre le disuguaglianze e per ridurre le povertà per ridurre in modo permanente bisogna intervenire sui meccanismi della formazione della ricchezza non basta redistribuire esposte bisogna forse il problema della predistribuzione questo è il potere che servirebbero per ridurre sui meccanismi non basta rialloccare qualche affetta in più al lato più debo della bilancia no bisogna cambiare bilancia bisogna cambiare bilancia dico qui io mentre la mia conoscenza di bilancia mi dico insomma scusate molte che saluto questo gli acci in qualche modo che so che lo possa mettere in discussione la mercificazione delle razioni umane cioè tira fuori è altero è un modello altero ha la forza della irriverenza della irriverenza qui c'è molto del perché dell'accadimento giudiziale io sopporto che tu sbagli a fare molti calcoli sopporto che non senti proponenti a dire cosa che succede in modo generalizzato ma non sopporto che tu i denti di discussione insiste in mano così è vero così è vero diventa non spiegarvi per esempio non c'è un accadimento su un ilmo è quello che ha rappresentato il ilmo è quello che come orgoglio ha rivendicato il ilmo cioè non c'è l'ha affatto è colpevole è colpevole è colpevole se l'avessero assorto sono un po' qualcosa non funziona perché il sistema aveva delle parole perciò il sistema non ha parole in questo caso è capace di reagire che possono reagire? il ilmo il modello specializzato metto qualche occhiavo in discussione il triplente neoliberista il triplente neoliberista uno politiche nazionali non c'è quelli unici sono quelli che differenziano non prende politiche non vedono viaggi non vedono un po' cos'è non vedono carcuni non vedono c'è insieme pure il regno un po' che abbiamo preso a vicino la capata è indifferenziata c'è anche un po' inglesi i comunisti sull'inglesi politiche basic legate ai uomini le politiche indifferenziate servono perché trascorrono completamente il fatto che ogni luogo è diverso un po' che il sindaco è diverso il sindaco è che le persone che vivono in una comunità hanno caratteristiche sociologiche di altro tipo aspirazioni sono diverse quindi le politiche devono essere cambiate sui luoghi non il più freddo secondo è che siamo stati una trentina d'anni davvero lo chiamavano prima lo sindaco è una parola difficile ma ci chiediamo della metrofilia che le innovazioni cambiamenti avvengono le città il resto è nulla il resto è scatto perciò non non un paese immagine ma i paesi marginalizzati state attenti su questo non sono paesi immagini ma i paesi che una certa politica ha marginalizzato perché ossessionato dalla metrofilia dal fatto che c'è un unico modello di innovazione possibile che è quello dell'economia di scala della concentrazione umana della dell'agglomerazione è solo lì che si possono determinare innovazioni è lì che c'è ce l'hanno detto niente in tutte le salse e là c'è la c'è il nocumutore del paese e il resto o per il consumamento oppure per l'utraio dovrebbero essere agganciato il resto ma non funziona così lo visto nella pandemia che è successo quello di innovazioni per l'Italia milanese come crollata senza la medicina territoriale e quindi seconda crisi c'è una crisi di egemonia del centro vedete le città o stai nel centro o stai a bovero o stai per loro o comunque stai ai margini cioè il livello di benessere di civiltà di servizi o stai nell'unglio del centro oppure in una reveria tu soffri pesantemente questo è il modello e il terzo è quello diciamo della compensazione compassione un po' di storie della riace non si possono regare un po' di storie a cavolo non si possono regare cioè un po' di ferite si possono avvenire ma dentro quel meccanismo diciamo un po' decostruisce questo triplete e farei inizi una cosa interessante è che si può decostruire soltanto dai margini dove c'è una doppia cosa rappresentativa massima concretezza devi far mangiare a quelle persone è massima visione questa è l'essenza del modello ma questo può venire non può venire soltanto le immagini solo qui può venire e solo qui che tu non puoi mettere in discussione tutti i tempi non ce la fai nel centro perché c'è sei capturato dall'informazione sei capturato dalla manipolazione al marzo la manipolazione fortunatamente è molto massa e tutto è possibile che costruisci e quel caso si è dato voce la gran parte della nostra comunità pratica l'exit l'accomodamento l'accomodamento la rassegnazione questo è ormai diventato e allora ci siamo morfinizzati con le nostre ovviamente non mi troviamo un giudizio di valore senza partiti con un sindacato che fa così così con delle istituzioni un po' come dire che si approfino spesso della propria condizione per avere l'età ma non so vediamo così istituzioni estrative che trovano vantaggio dal sottosquo che trovano vantaggio dal sottosviluppo e dunque c'è l'exit perché l'umore è arco diciamo Mimmo riagge a svegliare la voce e non solo hai quanto tempo ne spegnerà la voce la voce ma oggi è una manifestazione di voce non ci si ferma non ci si ferma e quindi un trattativo questa diciamo politica perciò interessante cucita sulle persone sul paese sul riconoscimento che dicevamo dell'altro non perché l'altro è uguale a me ma perché l'altro è diverso da me la diversità è la grande ricchezza l'alterità sta nella diversità non si ha accogliere che significa ridurre a uno le persone no moltiplicare le persone con sensibilità risolte le speranze le preferenze e così via diciamo questo è con grande importanza di riconoscere l'università e soprattutto sullo sviluppo io così l'ho tessuta per come lo conosciuto rispetto a quelle delle capacitazioni cioè di rendere le persone capaci in tutte le dimensioni della vita non soltanto della visione dell'ospite ma del protagonista del cittadino il punto che arriva a Piaccia diventa un cittadino compare diventando il nativo e comincia il gioco cooperativo se comincia ma comincia un gioco culturituale se comincia cioè non è una pacificazione di accoglienza soltanto soltanto scusami e poi c'è che mi piaceva a bimba adesso lo ripeto stasera in realtà mi è piaciuto altissimo perché è un modello di integrazione dolce i francesi integrano nel modo violente nel modo violente cioè o stendono le regole oppure niente si tendono al loro sistema qui invece è stata una costruzione co-evolutiva per cio dolce diciamo per cio dolce e tra le cose i bisogni di chi ci stava e di chi sta arrivando sullo scopo al vento e sull'opportunità di copo al vento sulla benzina che chiude e la benzina che puoi aprire sul tavolo di classe alla scuola normale convenienze e decifro che è questo è il modello dolce di riaggi mi sa consente ciò che da solito non riusciamo a fare da solito e viaggia a dire che la soluzione non è il problema da un ministero economista com'è il problema invece c'è la soluzione se tu pensate adesso sono arrivati 100.000 migranti cioè riusciti da Udia arriveranno seccolina cosina per la stile di 700.000 molte saranno delle città ma molte sarebbero piantassero di scopo nero perché sono convenienze e capacità per riprendere quella comunità insieme costruire insieme e quindi questo è riabilitare cittadinanza ospitalità e lavoro solidarietà e alterità perciò è complicato comunità di destine comunità di pratiche è tutto insieme soprattutto una moltitudine una moltitudine non così ma una moltitudine come la globalizzazione di articoli determinativo un un no di articoli determinativo c'è Maria c'è un porto c'è Cogenta c'è Filomena c'è Mario qui se si parla per donne non esiste un determinativo così e quindi perciò io l'ho sempre chiamato così a dire c'è un piccolo massaggio per Dio diciamo grazie in questo momento così così disuguata così assoluta assoluta è un piccolo massaggio per Dio qua c'è una società così anestetizzata di Dio c'è un massaggio per Dio e quindi secondo me e poi Priace è il paese della Calabria più giovane alla Calabria può scoparsi i ragazzi alla Calabria a Priace ci sono Calabria ormai il tasso di natalità delle donne è pari a 1.2 in Calabria che era tra l'altro al mondo adesso è più in basso del mondo più in basso dei giapponesi che ci ha passato cioè il livello di rivoluzione della società è tra 2.2 noi siamo a 1.2 la Priace è ancora quasi a 2.6 c'è medicina a Sona nel 2017 in Calabria c'è un ragazzo con meno di 15 anni e c'erano 3 o 4 anziani per ogni anno al viaggio c'è 25 anziani ogni 100 bambini certamente l'ho mostrato quindi della soluzione per questo bisogna resistere e continuare a ribellarsi ribellarsi cioè per ogni anno in un altro modo agli estropiatori di speranza perché la maestratura ha estropiato speranza all'economicismo delle norme e delle politiche dice Amaro ribellarsi agli imprenditori della paura che derealizzano il mondo lo derealizzano il mondo non è vero quella rappresentazione di quei mondi questa è una rappresentazione ad arte come stare con un senso scrittura di un certo avviso vecero eh ribellarsi al formalismo burocratico scubbio e decontestualizzato le norme si interna e gli uomini si interna questo è quello l'ultima per te se ho finito stiamo molto attenti tutti il modello non è il fine il modello è il mezzo non è valizzato il modello dobbiamo pensare il fine il fine è la situazione che può essere la più giusta meno fissura quella è la sostanza noi non abbiamo un celebro il modello ma infatizziamo il fine quello è solo un mezzo il mezzo mi piace ha funzionato grazie per una lezione come questa per i prossimi dieci anni che ci vediamo è stato un piacere però bene quindi io credo che attraverso queste tassette di conoscenza si cominci a configurare meglio la storia di Riace che volevamo trasmettere stasera ai nostri amici ospiti che sono venuti da lontano a conoscere cosa c'era di Riace di così preoccupante di così pericoloso che ha scatenato una reazione tanto violenta spero che loro riescano a ricostruire almeno in parte questo questo mosaico perché si tratta davvero di un mosaico di conoscenze di competenze diciamo Mimmo ha scatenato tutto questo insomma è un mosaico anche di persone per cui adesso sentiamo un'altra testimonianza di un altro che ha partecipato a questo a questo fenomeno il dottor Isidoro Napoli adesso si si requisitano e ci racconta un po' la sua parte di Riace mi viene da dire boh però se c'era così ma è un po' complicato non c'era un momento però è venuta fuori una cosa che mi faceva un curioso è un'accusa di bandermata come scansolazione a Puderico e chiede ma cosa è un po' di ragazzo lui è stato ristretto confinato io sono stato cancellato a Maria di Gioiosa Ioni che è il mio palazzo dove ho provato a fare a dare il mio contributo alla mia comunità lo stesso brevetto che ha cancellato il Riace sul mandato ha cancellato il mio comune con un atto d'imperio atteggiato dal solito ministro dell'interno lo stesso di cui sono e purtroppo dalla di orgo io abbi pazienza abbi 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 controfirmato dal Presidente della Repubblica ed ha cancellato la democrazia con un attore inquinato dalla moneta che mi verrebbe voglia di dire ma come ti permette ma come come oggi come come oggi senso che la cancellazione del Consiglio Comunale in Calabria viene senza nessun procedimento giudistico soltanto su un sospetto viene cancellato un Consiglio viene cancellato dalla democrazia e non si impende nessuno è incaduto qualche giorno fa a comune che è un sindaco che da Roma che potrebbe liversene tranquillamente a casa sua a Roma invece si interessa di questo sperduto buco della Calabria bellissimo perché è un villaggio che andrebbe premiato perché in Calabria le istituzioni dovrebbero essere sostenute accarezzate con colate non come quello che ha accaduto al Presidente Rivello che è l'aberrazione delle aberrazioni il Presidente della Giunta regionale del Banco è eletto dei cittadini che era presi costretto a dare il suo Paese un provvedimento che poi il Consiglio della Cassazione straccia come ha stracciato l'esilio degli involucati Nel 2011 il Politecnico di Milano pubblicò uno studio dopo la crisi economica la gravissima crisi economica del 2008 dal quale risultava che l'undici per cento della popolazione italiana non si curava più semplicemente non aveva più accesso alle cure mentale perché comunque ti muovi se ti devi curare le risposte e in costanza dell'articolo della Costituzione che vuole la salute non la cura la salute quale diritto fondamentale della nostra società l'undici per cento della popolazione italiana nel 2011 dice un istituto prestigiosissimo con il Politecnico di Milano non si cura più non ha accesso a niente facendo i debiti conti l'undici per cento è il valore nazionale per i calaprezzi in lato per l'altro nel 2011 oggi non c'è bisogno più del Politecnico di Milano chiunque odia di guardare e vedere basta che si guarda in fronte e il proprio vicino si rende conto di quanto sia distante lì con la salute dal dettato costituzionale nel 2016 io ero sotto sotto il tanto a Marina Di Giorgio Saione che da parte del Prevento di Bari e Nimbolo Cammo era qui a Riace venne a cercarci Nimbolo Cammo per una bambina che aveva dolore alla gamba facendo alcuni incertamenti purtroppo perché la bambina si fece un diagnosi con tumore la bambina poi è stata eseguita un percorso doloroso ma per fortuna con esito positivo qualche mese appresso Angie un ragazzino di 17 anni lamentava per la dispiena e veniva curato con dei con psicotermaci perché aveva stabilito in alcuni luoghi che aveva depressione era affitto da depressione Mimmo non ce l'ho sottoposto in questo caso facciamo alcuni incertamenti aveva una bruttissima infezione alla colonia vertebrale che lo portò nel filo di qualche mese per i ritardi che si accumularono nell'epoca alla paralisi totale da un pericolo in più ragazzino di 17 anni provate immaginare con grande determinazione con Mimmo con l'aiuto di numerosissimi amici persone sensibili siamo riusciti a servire per caso e oggi Angie ha 22 anni vive a Barcelona con il fratello e cammina perfettamente per i miei accadono altre altre due cose in quello stesso periodo il presidente del consiglio dei ministri dell'epoca no anzi il ministro degli interni dell'epoca il nostro compareciato nel 1990 mio segretario di federazione quando io ero segretario della sezione periferica del partito comunista italiano perché il partito comunista era un grande partito c'era anche di questa cacca dentro il ministro degli interni disse che il paese stato correndo un grave pericolo la sicurezza nazionale è in grave pericolo a causa degli sparchi che si stava verificando su rispondere sulle nostre cose diceva il falso sapendo di dire il falso perché pochi giorni prima erano usciti i dati del ministero degli interni dai quali risultava che gli sparchi erano in linea con quelli degli anni passati il ministro rincorreva una propaganda pecera cercando di fare concorrenza a chi poi lo seguì in quelli di castello il presidente del consiglio dei ministri sempre dell'epoca disse andatevi a curare a Casaloro andiamo a curare a Casaloro aiutiamovi a Casaloro chi disse ci guardavamo negli occhi con un organe ci dicevano tra di noi e quale è l'occasione di essere fedeli all'indirizzo del presidente del consiglio curiamovi a Casaloro Casaloro era il presidente e avvengono un ambulatorio della cace l'ambulatorio non per i rifugiati non per gli ospiti che arrivavano dall'apica ma per chi aveva bisogno tant'è vero che in questi anni in cui gli ospiti e i rifugiati si sono ridotti di lungo automaticamente drasticamente un ambulatorio che ci vanno adoperare regolarmente per i cittadini di Riace per i cittadini di Riace e dintorno l'associazione che ho a quale ho il piacere e l'onore di appartenere è un'associazione che si chiama Gingwell Gingwell è il nome di un bambino un bambino Filippino che io ho avuto l'avventura di incontrare nel 2006 per i cittadini di un bambino in un abito di bambino per un mese e mezzo questo bambino veniva in missione ogni mattina mi invidiava per mano e mi portava nelle barranche a visitare i bambini della barranche quando tornai in Italia con i miei amici decidemmo di fare qualcosa di usare le innovazioni le opportunità che ci dava la internet e le tecnologi trovavamo tutti scarpe per guardarci con i nostri parenti e amici dell'Australia o del Sud America perché non visitare un bambino costruimmo un fonendoscopio con un micropolo e uno spinotto per poterlo permettere a computer comandavano a maniera che visitavano dall'ospedale di Oprimann un giorno ci vedete in una stanza in un ambulatorio visitavano i bambini dell'Oprim in una stanza a fianco con i mediatri dell'Oprim attraverso internet visitavano i bambini che si trovavano a 11.000 km di distanza scoprimmo allora che si poteva fare la telemedicina la telemedicina dalla quale oggi si trovavano come di una opportunità straordinaria se il suo o anche si congliesse l'importanza di questa opportunità qui a Riace non abbiamo bisogno di fare telemedicina perché per una sorta di botta di fortuna la general elettrica che doveva vendere un apparecchio della struttura di diagnostica per immagine dove io lavoro decise di regalare ma fecero probabilmente per farsi un prorogante di regalarci un ecologico a comprare lo costerebbe 80.000 euro e noi 80.000 euro non è molto facile da nessun avanti insomma abbiamo questo apparecchio che viene utilizzato ormai da 5 anni da tanti medici e soprattutto da 3 da una cardiologa un attore saluto che non era qui nonostante vicende familiari molto importanti che non dovrebbe ripedire da un pediatra un attore trofio che con il quale il giorno 10 visiteremo tutti i bambini di Riace rifugiati e no e soprattutto da una ginecologa che sta facendo un lavoro straordinario davvero con un settore ma di questo non vi voglio parlare così delicato e fragile e non deve essere argomento di divulgazione troppo fragile troppo ma è una cosa di straordinaria vendenza di straordinaria vendenza io voglio chiudere con due parole che ho preparato dall'ultimo discorso di Giuseppe Di Vittorio il grande dirigente citagale della sinistra interna la nostra è una vita di sofferenza ma so anche che la causa è talmente giusta che merita di essere servita anche a costodire sacrifici e quando si ha questa consapevolezza ognuno di noi può dire a se stesso alla propria donna e ai propri figli ho fatto il mio dovere fino in fondo applausi e a costo Vittorio e Vittorio Napoli mi ricordano una cosa che avevo dimenticato, forse la t'era dimenticata anche il primo, sono splendide parole, sia quello di Vittorio che le tue, ma c'era un signore qui che era cittadino di Piace, era medico, non era Cosma, non era Damiano, però insomma si chiamava Genostrada e il primo gli ha dato la cittadinanza. E' stato anche il nostro ospite al Festival Napoli nel 2018, una giornata memorabile, l'abbiamo portato nel posto migliore che ci avevano disponibile, il carcere di Poggio Reale, lui non si è tirato indietro, è venuto e ha passato una giornata con 300 detenuti, raccontando un po' delle sue storie in Sud, in America, in Cile per il mondo, e poi la sera abbiamo portato un altro posto bellissimo che, diciamo, per noi è un po' il simbolo del nostro Festival, del nostro lavoro, che è Forcella, che è qualche più ferente di Napoli, insomma. Insomma, però qui è stato molto contento di stare con noi e abbiamo passato una giornata veramente splendida. E allora, insomma, pochi giorni fa abbiamo ospitato anche la moglie che è venuta a presentare il suo primo libro, una persona alla donna che allo stesso tempo non è una biografia, è un messaggio, è un modo di integrare la vita, un po' una filosofia, diciamo, della sua medicina, il non lasciare nulla per strada, anche se è soltanto una persona, anche se le bombe tutte attorno cadono. Purti faremo di carro alla guerra, Gino Strada faceva tutto questo, va bene. E adesso abbiamo un'altra testimonianza, e anche qui c'è la destinazione di chiudere a Giuseppe di essere così generoso da comprimere le sue idee, lo so fare molto tecnico, consuente, si chiama Giuseppe Bammarello, e ha dato una mano agli Acio e finiamo agli tempi, però, insomma, stasera, semmai ci racconta qualcosa delle sue meditazioni su quello che è stato di Acio. Grazie. Devo dire che con intensità, sono realizzato di Acio da più di vent'anni, insomma, sentire Mimmo, sentire il Presidente Urilegio, che ha una visione molto importante, questo ragionamento dei territori è entusiasmante, perché in Italia ci sono regioni che programmano lo spopolamento, invece io stasera sentire una pezza di energia Mario, di contrastare lo spopolamento e di stare vicino ai territori. Poi il Presidente Urilegio per me è un guru, quindi, insomma, mi ha emozionato per un ultimo punto di grafico, perché ho fatto questo, questo, come dire, show-ring del Darding Group che ho vissuto in queste ultime due ore, perché spero che tutto questo possa essere utile per i parlamentari europei e i protagonisti di questa lotta per una società migliore, a fare delle cose delle azioni concrete, perché ne abbiamo veramente bisogno. Il mondo è il cambiamento e in questo momento il cambiamento volge verso una società governata dalla Banco Ocrazia. È paradossale che il Parlamento europeo abbia stima nelle monete complementari e, allo stesso tempo, la omissione o la biciere, distrugge le esperienze di monete complementari. Poi ci finiremo su questo. Io non la faccio lungo perché è stato detto tanto, però voglio solo fare dei flash. Il flash è che, quando ho conosciuto Mimmo nel 2004, riasce in un paese trasosforo. C'era una cellula di persone rivoluzionari che avevano delle grandi idee ed erano conseguenti a queste idee. L'ospitalità diffusa nel borgo era una realtà e noi nello stesso tempo che il Calabria per quindici anni non riuscivano ad approvare una legge sul maestro Bergo. Ti ricorda? No? Un po' approvata nel 1992, in 1993. E' una cosa del genere. Bene, Mimmo, questa cellula di rivoluzionario l'avevano realizzata, avevano conquistato anche le istituzioni. E quando sono arrivato qui mi ha colpito due cose. La prima è che in un paese così raso al suolo c'era l'università. L'università che stava facendo uno stage, stava costruendo un disegno urbano per dare qualità urbana al comune. Questo borgo sempre diviso il calabria dal borgo del mare e il borgo della montagna. E poi questa forza di tema, che era il tema della solidarietà, dell'accoglienza legata alla storia di Mimmo dei Gordi, che si è trappata a 12 ospiti che erano qui, 12 impugiani, che erano qui in virtù di una legge, che legge non era dello Stato italiano, erano tre righe nella legge di bilancio, tre righe nella legge di bilancio che erano più conosciute come programma nazionale a singolo. Quasi tre righe dovevo dire, vabbè, per coscienza, visto che dobbiamo rispettare la convenzione di Cinevra, impugniamo queste tre righe e accogliamo qualcuno. Bene, Priace è stata protagonista, protagonista perché Mimmo Lunano è stato non solo una persona che ha realizzato tanto nel mondo dell'accoglienza, in maniera anche privante, perché devo confessare una cosa, ovvio non lo dire mai, ma gran parte delle regole dello Stato, del nuovo ordinamento, sono state scritte dopo tante riflessioni che sono venute qua da tanti amici che arrivavano da Salentino, da Roma, da altri paesi, per capire come facevano questi qua, no? Come facevano a mettere prima l'accoglienza e poi il progetto, no? Mentre invece tutti, compresi i branding, che arrivavano più soli e poi hanno accoglienza. Ma la cosa sorprendente è che Mimmo è stato un grande sindaco, cioè non ha solo racconto tanti rinunciati, che lo ha fatto bene, ma è stato un grande sindaco di un paese in un'area fragile molto problematica e ha voltato completamente la tentata realizzando un grande viaggio. per esempio, Mimmo ha scelto nello sviluppo locale un elemento fondamentale, un tema, nessun luogo, nessun sistema locale può svilupparsi se non ha un tematismo preciso dove convergono, sul quale convergono investimenti, pensieri, azioni, delle istituzioni, dei privati, del privato sociale, dei cittadini, perché è il volume che genera l'inversione della tendenza, è il volume che genera lo sviluppo, lo sviluppo non è una iniezione di vitamina che mettiamo in un sistema e poi il sistema se lo assorbe e produce, è un coro. Mimmo mi saluta perché la soledà che dà non la scelta solo per la compiezza, la scelta anche per i suoi cittadini, perché Riacci è cambiato. Nel 2006 è stato il primo sindaco della Calabria a realizzare un progetto con la pratica della concertazione tanto cara alle istituzioni europee che chiedono sempre nei bandi mettete la concertazione con… Benissimo, centinaia di studenti, di alunni, hanno disegnato quello che poi è stato realizzato in gran parte a Riacci. E' stato capace quindi di scegliere un tematismo forte e ha fatto sia un marketing interno, sia un marketing esterno. Cioè a Riacci soprattutto si è risultato meglio, non solo per le scuole perché voglio mettere la famiglia, ma noi ci divertivamo con soddisfazione a vedere che tanti cittadini cominciavano a riqualificare le proprie case che invece avevano abbandonato per decenni. Senza, non per farci speculazione, ma perché si vedevano conto che il tutto era diventato più importante, più bello, più… più bello da vivere e più giusto da conservare. E quindi sono partiti anche gli investimenti privati, in una logica di grande relazione istituzionale. perché Riacci è stata frequentata da tantissime istituzioni. Tante perché ne avevano bisogno, come prevede, che ne avevano abbandonato di cose, no? Tante perché erano curiosi, avevano, volevano la secondaria, no? Volevano contribuire, volevano ascoltarvi, no? Beh, abbiamo avuto situazioni di grande interesse che hanno portato per questa epoca notevole. Ma cosa è successo, infatti? Non voglio ripetermi. Un volume significativo di investimenti, non di soldi, non solo di soldi, per quanto riguarda di questo lo voglio parlare, ma di investimenti di organizzazione, di scelte, di dialogo. Il primo comune che ha fatto un giancio sociale, Mario. Ricordi? Una serie di azioni gli hanno invertito un paese condannato al popolamento. La pluralità, ti ringrazio di aver citato la pluralità, la pluralità ha dato la possibilità a questo sindaco di attrarre, senza ingiusti, senza i progi, senza gestire la spesa, che ne si dice un po' in Calabria, per i del sud, poi per i paesi, per i da, la pubblica amministrazione si misura con la gestione della spesa. Anche qui il mondo ha la vita, perché a Riaccio è stato un volume di investimenti pubblici, infrastrutturali, di circa 3.000 euro per capire per abitare. Cioè, abbiamo un volume di circa 5.000 euro in 11 anni, così, di consigliere. E, che sono significativi. Ma, non perché li abbia presi lui e gli altri no, perché li spedevano bene. Perché quando si uscita in Tanti, si scriveva, come dicono i parlamentari europei, dicono sempre, ma quando li strutturano una chiesa, quando li strutturano una chiesa, raccontateci quei sono gli obiettivi, che cosa ne farete, chi li userà. Noi qui l'abbiamo fatto, Mimutano qui lo ha fatto. E questo perché ho voluto parlare di questo. Brevemente dico che anche l'idea del buono spesso, di moneta complementare, è stato un indicatore fondamentale, perché ha dimostrato, attraverso la sua diffusione, che lo stocco di fiducia dei cittadini rispetto alla rinascita, alla crescita, all'orgoglio identitario della propria buonità, è diventato elevatissimo, al punto che anche un buono spesa veniva conventuto, perché chi dava il buono spesso mi contava i 50 centesimi, quindi aveva anche un valore monetario. La semplicazione. La semplicazione, no? Perché abbiamo sottratto, abbiamo sottratto all'accio del sistema bancario, no? Cifre enormi, no? Di interessi che avremmo dovuto scontare tutti i soggetti, i consumatori, i lavoratori... La semplicazione, no? Perché dico questo? Perché la storia di Riace è una storia importante nei risultati. Riace è l'unico paese, ma del Comune Celsosimo, che ha caratteristiche della natalità. È un paese che fino al 2000 ha cresciuto i suoi abitanti, che ha fatto delle politiche attive per la famiglia, significative, senza neanche spreversi per il dato. Ha semplicemente accordo, con preferenza, dunque parentali, le famiglie, dando la possibilità alle scuole di vivere, dando la possibilità ai cittadini di capire che una quotidianità in una zona interna del paese era possibile. In tre grandi fasi di lavoro, e quel completo. Io dopo ho fatto un abstract che magari potrebbero segnare agli italiani che gli interessa. perché tutte queste cose che non si sono dette, in realtà, voi le vedete e sono state fatte. No? In tre grandi fasi. La prima fase dell'amministrazione di Riace è stata una fase legata molto alla riconificazione urbana, alla riconificazione dei servizi, all'accoglienza, all'apertura all'esterno delle tradizioni identitarie. mi va di ricordare prima con la valorizzazione della minestra, degli altri mestieri, eccetera. La seconda fase è stata una fase di finalizzazione, non solo nell'accoglienza, ma anche nel dare un senso al valore della scuola di questo comune, con l'ospitalità diffusa. E sono state intraprestantazioni, lo vedete, no? In un contesto anche di contaminazione internazionale. La terza fase è stata quella di spingere, come dice Milo Cercosso, che è stata una fotografia spettacolare, di spingere senza esitazione sul sistema valoriale politico. Io penso che l'ultima cosa importante da sindaco che Milo ha fatto, in un talo pericolo, è stato un messaggio politico forte, legato al bene pubblico dell'acqua, che devo dire che non ci hanno sopportato tanto. perché si è trattato di evocare contratti, di indicare con il Presidente, di fare un sacco di cose. Con questo obiettivo di costruire una vivibilità per le fasce dei cittadini più deboli. Quindi abbiamo ragionato tante volte su quant'era la coda di acqua che dovevamo dare gratuitamente a tutti, no? E con che criterio fanno pagare poi agli altri, no? E l'altra cosa è una risposta concreta alla criminalità. Cosa può fare un sindaco? Appropriarsi dei beni confiscati. Io ho accompagnato un bimbo più di qualche volta, mi ricordo i complimenti che riceveva, dice Minzica, siete l'unico sindaco che avete alzato i piedi per venire da noi. Noi quando andiamo nei comuni, gli diciamo, vi volete i beni confiscati, i sindaci si nascondono, no? E lui che era andato? Un uomo fiscale. Armato! Diciamo, il proprietario di questi beni, tre quattro mesi. Tre quattro mesi. Bene, Minzica l'ha portato nel patrimonio comunale questo bene, ricordo con esattezza la sera della delibera, una delibera difficile, con tanta dico spori. La sera invece che è stata consegnata il bene al comune, c'era il meno, forse dell'ordine, c'erano i presidenti, c'erano i pochi buoni già, ok? Bene. L'idea era quella di restituire questo patrimonio ai cittadini. dal 2020 a Piazio non sono solo da tutte le nascite, nel senso che poi Piazio, aveva superato il 2010, adesso siamo sotto il 2000 abitanti. Dal 2020 la regressione culturale in questo paese è evidente anche su questo tema. ma perché? E torno alla mia condizione di piccolo agente di sviluppo locale, insomma quando io voglio perché i controvassioni hanno buoni vicini. Perché manca il tema. Cioè in questo momento manca il tema. Allora su questo discorso del tematismo io credo che da Riace, come dice Zanotelli, si gioca una grande partita. Noi dobbiamo tenere alta il ruolo di Riace, perché Riace è l'unico posto al mondo dove si parla di un'accoglienza possibile non con modelli matematici, ma con modelli comportamentali che sono diversi da quelli matematici. e ci dovete dare una mano ad avere una eco come Riace in Europa. Aiutateci con la frequentazione degli artisti, che ne so con la frequentazione degli comuni di cultura. Aiutateci in questo, perché questo è il modo perché si trovi l'energia, non solo della soluzione d'età che mi sembra piacere, la soluzione d'età anche cromica, amicale, eccetera, ma si trova l'energia mentale per andare oltre a quello che è già stato fatto. Grazie mille. Grazie Giuseppe Padrelli. Bene, noi abbiamo la conclusione dell'ultimo intervento che coglie proprio del segno di unito di Giuseppe, cioè quello di prospettare un futuro per Riace. Ormai la storia l'avete capita, la conoscete, sapete quali sono i punti di forza di questa esperienza. Conoscete anche i protagonisti, perché alcuni hanno parlato qui, ce ne sono tanti altri che sono lontani, ma vicini col cuore a Mimmo e a Riace. Allora io vorrei chiedere a Salvanese di essere così gentili in pochi minuti, da darci l'idea di quella che è la rete di sostegno che c'è in Italia. Lui è il fondatore del capitato 11 giugno, uno dei punti di resistenza più forti, di solidarietà con Riace. Allora, dici un po', il mondo che dopo il provolo, diciamo, di Riace, si è ritrovato a dare solidarietà al Mimmo, che è pronto a intervenire, che è pronto a resistere e sta resistendo. Ecco, quanto è grande? Com'è complessa questa realtà? Sì, io intanto ringrazio te per aver organizzato questo evento, ringrazio i parlamentari europei e tutti gli altri che hanno portato testimonianze profonde che in questo momento diventano anche il disagio, e cosa posso dire io su tutto quello che è stato detto? Perché quella questione del comitato 11 giugno è un po' complessa, però io vorrei ringraziare i terri perché ho fatto un percorso di evitanza con loro, perché la mia vicinanza al Mimmo inizia negli anni settembre nelle ruote sociali di questa terra che è particolare, perché secondo me Riace nasce dentro quel contesto di utopie che è fortemente caratterizzate soprattutto dagli anarchici in questo territorio. Poi una parte di noi invece aderisce a quel movimento, c'è un ideale della sinistra militante che trova espressioni di democrazia proletaria. Io credo che Mimmo si riconosca in quella storia ma non abbia mai avuto la testa della democrazia proletaria. Io invece dopo la democrazia proletaria dei suoi verdi, un nuovo percorso di evitanza con loro, e la storia con Mimmo finita con l'esperienza nella Locrile, dove si era generato già dagli anni 67-68, la nascita di una serie di collettivi operai studenti si chiamavano allora, ed era fortemente dedicata in tutto il territorio della Locrile, ed era un'esperienza unica, forse ha anticipato anche il 68 francese, perché trovava ispirazione in una storia ancora più lontana, la nascita della Repubblica Rossa di Caolonia, l'esperienza d'Africo di una situazione molto diversa ma similare, Santoro Mamiglia, Beppe Valariotti, cioè tutta una storia che aveva generato una forte idealità e orfia in questo tempo di terra. E Mimmo è uno di quelli che ha raccolto questo testimone, trasformando poi in un'azione concreta, perché finita con le esperienze di militanza, la crisi della politica, il riflusso, poi sono rimasti nei territori gruppi che si preoccupavano Mimmo Agliaggi con un gruppo a Siderna, a Caolonia, però rimanevamo in collegamento, ci preoccupavano dei territori nostri, poi insieme eravamo contro gli F-35 a Isola Capo del Sud, contro la gentile a Carbone a Giulia Tauro, contro il Ponte sullo Stretto a Reggio, perché in quella visione utopica tutte queste cose facevano parte di un disegno ideale. E in questa storia nasce Mimmo che, come diceva lui prima, quegli orizzonti che si incrociano tra i valori di una sinistra e i valori di una certa chiesa, diciamo popolare, ispirata al modello, diciamo che era nato in Sud America, arrivano prima con Natale Bianchi, il contrasto tra che è stato suo professore, che lo ha fortemente anche in qualche modo condizionato, eccetera, quei valori si incrociano. Forse c'è meno sinistra in questa storia di Riagio dal punto di vista della militanza, non dei valori, i valori ci sono tutti, e più chiesa, cioè non la chiesa quella istituzionale, ma quella di base, popolare, che c'è più incrocio in questa storia di Riagio, e che Mimmo in qualche modo è riuscito poi a tenere insieme, perché i suoi percorsi dall'associazione fuori dalle istituzioni, io ricordo le ansie della prima volta che si è candidato che non ha preso voti, c'è neanche tre voti, neanche il suo padre vota, però poi quando diventa sindaco, lui ha una capacità, lui non sembra, però ha una capacità comunicativa enorme, questa storia rende anche quello che è per la sua capacità di comunicazione, perché lui ad ogni impasso, ad ogni elemento di crisi, riusciva a coinvolgere tutti, cioè lanciava l'antello, c'era, mi rimetto da sindaco, assemblea pubblica, e qua convergeva a noi, no? Perché Riagio diventava anche una sorta di luogo dell'anima per tanti, cioè non avendo più grandi finti di riferimento se non quelli generali, questo luogo diventava un luogo dello spirito, cioè era una sorta di sbattiacque tra chi stava all'interno di una visione umantaria, no? e che lo abbiamo lui recuperato, poi tanti per strada si sono persi, perché intorno a questa vicenda di Riagio anche tanti hanno cercato di approvittare di questa luce che emanava per fare un po' gli incontri di, diciamo, i propri interessi, no? C'è anche stato un uso di quello, ma va bene, pure quello, ci stanno tante internazioni, diceva bene, Maurizio, quanti film, quanti libri, quante storie, tanti hanno avuto e avevano lo scopo di illustrare, cercare di rendere questa esperienza, tanti erano anche un modo per farsi luce propria, no? Vivere di luce riflessa, c'è stato anche tanto qua. Allora, poi tanto un digiugno, perché sennò poi diventa molto lunga come storia, perché poi nella sostanza abbiamo recuperato Mario Rivera, no? L'abbiamo recuperato per strada Mario Rivera, non è che c'era questa storia, però appena va in contatto con l'Utano, pure lui si sull'anghella di Damasco, si muove la norma. E finanzia quella famosa legge che con Mimmo e Gersosimo, ispirata da Mimmo, la legge 18, poi non è andata a buon fine per l'uso dei soldi. Però almeno c'è stato un tentativo di utilizzarla. Adesso non credo che siamo nella condizione di immaginare con Mimmo e Gersosimo. Dopodiché che il problema ora è capire, questo come lato 11 giugno nasce nel momento in cui Mimmo è in esilio, tanti compagni provenienti da storie di militanza diverse si incontrano, si avvicinava all'inizio del progetto a Locri e insieme si è deciso in una delle tante riunioni fatte l'H1 di far nascere un qualcosa che potesse in qualche modo essere utilizzata per tenere accesa questa storia, tenerla illuminata, cercare di contrastare. E si lancia questa idea, poi dal 11 giugno proprio perché era l'11 giugno che cominciava il processo. E abbiamo avuto in quella fase, insomma, diciamo, non tutti quelli che giravano un corno a Mimmo erano d'accordo su quella storia, tant'è che una delle cose iniziali che abbiamo fatto è stata quella di lanciare un appello per una raccolta di firme che chiedesse la evoca per le misure cautelari. E c'è stato anche uno sconto, ma anche l'Avvocato D'Arcos nella prima fase aveva detto che ponevamo problemi, non era il caso di interferire con l'azione giudiziaria e quel mondo un pochino si era un po' frantumato, perché poi da quella proposta di comitato 11 giugno sono proliferati questi comitati 11 giugno. Non è che un unico, no. C'è un comitato 11 giugno a Milano che va per i fatti suoi, c'è un comitato 11 giugno a Napoli che va per i fatti suoi, c'è uno nella Calabria, c'è uno in Emilia, certo, c'è uno a Trento, c'è uno già a Genova, noi neanche sappiamo, insomma, anche perché sono nati provenienti anche da esperienze storiche diverse, c'è chi proveniva dall'esperienza sindacale, chi dall'esperienza del Partito Comunista, del Partito Democratico, chi dalla sinistra più radicale, chi dall'ambientalismo, c'è un mondo vario che però su minimo e su riage si incontra e che tutti lavorano, diciamo, con lo stesso obiettivo. Cioè, non abbiamo una strategia in questo, anche perché non è facile, perché qualunque volta tutti buoni, nella condizione di discutere di quale scelta fare, ma lo vediamo già in questi giorni sulla guerra, no? Che si riflette sia dentro questo mondo, ma anche nel mondo più largo, se inviare le armi o non inviare le armi, ci divide, ci divide, come tante altre cose, perché il mondo della sinistra è evocato alla divisione. Cioè, è una storia strana, ma io credo che il grande punto di debolezza di tutta questa nostra storia la riassumeva stamattina, non ricordo chi era che gestiva i lavori, quando ha chiuso dicendo, Corrado, quando Corrado ha detto che già nel mondo, no, dell'associazione delle ONG, c'è una competizione tra di loro negativa che indebolisce, perché l'altra parte, quella che vorrebbe bloccare tutto, la sintesi è forte, è unitaria, invece questo mondo non riesce a fare sintesi comune. Non lo so se perché ci sentiamo più intelligenti, ma secondo me siamo più stupiti. Perché se fossimo capaci di tenere insieme questo mondo diverso, ma che si riconosce negli stessi valori, noi avremmo delle forti rappresentanze dentro quelle istituzioni che potrebbero portare a quei risultati che, nel momento in cui Mimmo era un lapice, Mimmo Cersosimo era il vicepresidente del Consiglio, anche uno come lo ieri, un cristiano illuminato, però ha capito che in quella direzione si poteva agire dando alla Calabria, forse l'unica regione d'Italia, lo strumento per gestire in propria casa sua qualcosa. Ma poi non si è fatto nulla, poi tu hai messo un milione di euro su per la legge, no? Ma quante cose si potrebbero fare se tu avresti delle ottime e buone rappresentanze valoriali dentro le istituzioni. Secondo me quello è importante, invece, intorno al mondo di Mimmo, dentro questi comitati del 10 giugno molti ritengono che Mimmo deve essere il Santino da venerare, no? Cioè da venerare perché non deve partecipare alle elezioni, Mimmo è alti sopra delle elezioni, no? Poi Mimmo su questo ha una sua autonomia, decisioni, scelte e giudizio, e fa cazzate, no? Perché quando si deve candidare non si cambia, quando non si deve candidare si cambia, no? Ma questa è nella sua piena e totale libertà di Mimmo, no? Perché se Mimmo si fosse candidato agli europei probabilmente il processo non gliel'avrebbero neanche fatto, no? Però Mimmo non si voleva candidare perché il suo problema non era andare a rifugiarsi in un Parlamento europeo dove ritenera non poter essere utile, io invece sostengo che lui là avrebbe avuto la forza di aprire una discussione che purtroppo in Europa non si sta facendo. Stamattina io sono grato ai parlamentari europei perché ci hanno fornito un quadro di iniziative, di tentativi di scartinare alcuni meccanismi, ma che è chiaro che sono molto deboli, ce lo dimostra ancora con forza la competizione che si sta vivendo in questi giorni con l'atteggiamento che l'Europa ha verso l'Ucraina, giusta, no? Ma con lo stesso atteggiamento di respingimento che continuano a mantenere con gli altri. Cioè è assurdo quello che vediamo nelle immagini della Piorussia o nelle confine della Polonia, perché c'è tutto questo. Ora noi, diciamo, è complessa la cosa, poi le cose di sostanza sono state dette. Ora questo comitato è una presenza, per fortuna, molto diffusa in Italia, anche con apprendici all'estero, dove tutti sono attenti con, diciamo, le antenne accese per capire in che modo si può aiutare. Per esempio, io in questi giorni mi sono molto più giocato, se era opportuno o meno organizzare un'iniziativa in occasione dell'avvio del processo di artello, no? Aver giocare. Abbiamo ritenuto di non farlo, perché l'undici di giugno all'opera abbiamo vissuto qualcosa che era più simile ad un incubo che ad un patto sociale. Cioè, noi abbiamo avuto un responsabile del commissariato di Siderno che ci ha cambiato i numeri sulle carceri chiedendo l'autorizzazione, immaginando la presenza di 500 persone, ce la trasforma in 2005 per giustificare l'arrivo di migliaia e migliaia di poliziotti che hanno blindato tutto l'occhio, che hanno blindato l'occhio, nel senso che all'incrocio tu trovavi una battuglia della finanza da un lato, una dei carabinieri dall'altro. Cioè, hanno blindato un paese, completamente, non consentendo neanche la gente di entrare. Cioè, e casomai facendoci passare con i cittadini di l'occhio per i responsabili di una giornata terribile, basta, no? E siccome approfittano un po' di questa cosa, tu non sai, io oggi faccio il responsabile della sicurezza. Tu non lo sai? No. Eh, tu non lo sai. No. E perché la dico si è voluto che ci fossero responsabili della sicurezza. Hanno voluto le comunicazioni. Perché? Quando è sul di lui, dove mai è successo nulla, ma mai, però, funziona così. Ecco. E allora, tenendo conto di quello che può succedere, abbiamo evitato di, poi, alcuni romani, Giuseppe, altri compagni del Comitato, e di questo, diciamo, movimento che si è formato un autonomo alla sua scelta di candidarsi alle ultime elezioni regionali, che era un'altra calabria possibile, ma richiamata, diciamo, ai valori di Portallega, o altrimenti è possibile, no? Come anche là, una rete plurale di soggetti si riconosce, e che, a differenza di qualcuno che avvicinerebbe, che piacerebbe mettere in campo un altro partito, un altro movimento, io ritengo che quello può essere uno strumento per cercare di unire i diversi mondi che si muovono dentro questi spazi di valore, ma non mettere di nuovo in campo un'altra idea che un Mimmo è un leader, ma non esiste proprio in cielo né in terra, perché quello che un Mimmo sicuramente non è un leader, e un Mimmo può essere un santo, un Mimmo può essere, cioè, l'ispiratore di mille oppressioni, ma sicuramente non è un leader politico, ecco. E noi, cioè, con lui, questa lunga storia... Ma non c'è detto per i punti di giudizio, c'è un grande... No, ma i leader che poi sono diventati importanti, sono quelli che hanno fatto carcere, che sono stati interpretati qui. Ma i leader è sempre per tutti, no? Non con lui possiamo scherzare su questo, ma noi anche, diciamo, come comitato, come compagni che hanno vissuto e vivono questa storia, abbiamo vissuto anche momenti drammatici, perché ci sono stati momenti di fragilità estrema, anche da parte di Mimmo dove abbiamo avuto paura di qualche gesto estremo, perché lui aveva messo in conto anche quello di rispondere all'attacco del Tribunale di Locke e della Prefettura ma anche che è stata a disposizione la propria vita. Cioè, e ci sono stati momenti, per fortuna, oggi lui ha elaborato e sta affrontando questa battaglia che si traduce nella scommessa di far rinascere l'Age. Ora, per far rinascere l'Age e farlo ribattire, e chiudo, c'è questa disponibilità di questo racconto fondi che ha fatto Luigi Balconi, sono stati presenti delle associazioni anche francesi che sono venuti a dare anche un contributo. Io dico che anche i parlamentari europei potrebbero dare un contributo, no? A far ribattire, perché questa storia è un faro nel mondo e riguarda tutti. Cioè, non è la vicenda di Age, è guardata anche dal Giappone, no? Come esempio più alto di umanità. Ora, io credo che il gruppo dei parlamentari europei potrebbe farsi carico di finanziare un piccolo segmento di questo progetto che sta ripartendo senza sostegno da parte dello Stato. Per esempio, non lo so quanto può essere la spesa per gestire cinque famiglie in un mese a viaggio, no? Un contributo concreto in questa direzione. Io penso che si possa trovare un meccanismo di sostegno in attesa che questo modelo ritrovi una sua autonomia, no? E una sua capacità di essere autosufficiente. Perché qua si sta ripartendo da zero e tante famiglie che arrivano, arrivano nudi come sono e non portano nulla. E loro stanno aprendo le porti e le braccia al luce. Sì, sì. Ecco. E come c'è l'associazione a Bologna che è una luce per viaggio che paga le borlette, anche i gruppi parlamentari potrebbero dare un piccolo contributo. Non lo so, anche standoci la spesa alimentare che con cinque famiglie, c'è il contributo per la sistemazione, non lo so. Si può trovare una formula per dare un mano perché adesso l'Iraggio ha bisogno di aiuti concreti per ripartire. Perché è chiaro che questa sua scommessa è una scommessa difficile e computata, ma non impossibile. è un'altra scommessa. Grazie. 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 Allora, andiamo con un gesto simbolico che è quello di donare a Bologna, non me, ovviamente tutta la delegazione parlamentare, anche a me presenti. Ah, questa è generosissima. Un esemplare della famosa moneta di Riace, insomma. Ecco, io vorrei dire soltanto una cosa per chiudere questa... Ci si riuscola. Solo per chiudere poi la storia di dare. Innanzitutto abbiamo il film alle sette, se avete pazienza di conoscere questa storia attraverso le immagini di Cielo sopra Riace, potrete vedere qui proiettate le immagini. in cui la cerca un'ora, ed è molto bella. Poi, volevo dire che, tutto sommato, una lezione l'abbiamo appresa. Tutti quelli che sono venuti qui oggi sono amici. Riace ha dato una lezione di civiltà, dato una lezione di accoglienza, ma ha dato anche una lezione di amore e di amizia. Voi siete la prova vivente di questo. Speriamo che, uscendo di qui, i parlamentari per un verso, gli amici per l'altro, facciano ognuno la propria parte, perché Riace deve ripartire. sta ripartendo, si sta ripopolando. Ma c'è bisogno di tante divertite, veramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.